normale ristretto lungo o macchiato ognuno ha il suo preferito fare un caffè può risultare un piccolo capolavoro e ognuno ha il suo momento caffè da vivere questo ci voleva il caffè è un per essere felici artisti del gusto su national geographic channel e tu come vivi il tuo caffè dietro ogni caffè un'emozione da condividere scarta una foto del tuo momento speciale caricala su coffees.illi.com potrai vincere una macchina iperespresso illy per un caffè perfetto anche a casa